Vi aspettiamo il 21 settembre al mattino alle 8.30 per approfondire con noi il Decreto Dignità che come sapete introduce delle importanti novità dal punto di vista legislativo per quanto riguarda i contratti a tempo determinato e in somministrazione. Faremo un approfondimento nella mattinata nel senso di andare a ragionare nel concreto come questo decreto impatta sulle nostre imprese. In un momento in cui pare siano gli slogan a farla da padrone sui social e sulle televisioni noi vogliamo invece dedicare una mattinata di approfondimento. Con i nostri tecnici andremo a ragionare sul decreto e su come impatta sulle nostre imprese. Andremo a ribadire con forza come il lavoro per noi è questione centrale come il lavoro non si crea per decreto, come l'attenzione di questo Paese deve essere per il lavoro e per le imprese perché sono le imprese che creano lavoro. È una questione importante per le imprese, per i lavoratori ma direi per il Paese tutto. Vi aspettiamo il 21 mattina.